Ehi, sali! Ah, oh, ciao Mike, stavo leggendo... Cioè, sei un minuto, vorrei farti vedere una cosa. Dai, vieni, chiudi gli occhi, vieni con me, andiamo. Non sbirciare! Vieni così, vieni così, vieni così, vieni così, avanti, vieni così, vieni così e segui l'ipnotica melodia della mia voce. Fermati, apri gli occhi. Ta-da! Mike, quella è... Scusa se ci ho messo tanto, abbiamo dovuto maneggiare un bel po' di legno. Lo sai che funziona solo se ci sono tutti i pezzi. Buu! Gato!